Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata sull'Hack Room Pokémon Marromerda 2 ci eravamo lasciati qua, amici di Alt City in attesa di sfidare il capopalestra ci si va di volata guarda no se non mi riordo un attimino, regola sì accurati Pokémon, vero? sì, piccolo dubbio andiamo guardiamo un po' se ce la facciamo subito alla prima allora guardiamo Mario Ottidi, sì, si era già letto vediamo cosa ci dice lui ehi, aspirante campione è difficile avvicinarsi a Mario Ottidi la tristezza si impossessa del tuo corpo ad ogni passo ok vai, bordaci pensavo non mi vedesse invece Marron allora Happy Hypno era il coso era lo snack, la merendina Kinder Happy Hypno pubblicità sponsor no vabbè a parte gli scherzi Happy Hypno cazzo comunque è livello alto boia non va bene boia eh no pensavo sì, ok chiaramente qualcosa in più di livello rispetto agli altri però non mi aspettavo intorno a 40 perché probabilmente Mario Ottidi che è capopalestra come minimo c'era Pokémon a livello 40 ai ok vabbè comunque ce n'ava solo uno eh di solito quando uno cioè quando ce n'hanno solo uno è più forti li vedi che ce n'hanno di più di Pokémon quindi magari boia gli altri sono saranno quelle altre magari ci avranno Pokémon più deboli allora non ne riesce a passare sarà colpa di Zingari però non so voi se avete mai visto la serie su MTV di Mario sì perlomeno se chi l'ha vista capirà queste battute cos'è? Omer Knight è Omer di Sinso alla Mega Pugno comunque vedete già lui Omer Knight al 31 ora si ragiona ecco non è molto efficace però li ha allevato parecchio eh bene morse mi dava una sega Mega Carcio così boom dai che palle colpo di fango meravale fango bomb sì vabbè ripotevo usare il Mega Pugno però vabbè non è molto efficace eh buono nulla efficace bene 796 mh attacco Malfoy rieccolo guardiamo se va colpo di fango sì buono boom alla prima 45 bene Electrode chi è? cazzatissimo colpo di fango ragazzo dovrebbe essere super efficace infatti non so se avete sentito il suono cubone uno di cubone stavo a vedere è un cubo fatti fatti quotato a zero che fosse un cubo grosso vecchè cubone dritto per dritto non è mortificace c'è un cubo scelta si gonfio ti vai venga punto buono dovrebbe essere morto sì vale Ora si vede Se non c'ho speranze Devo battere più forza tutti Ok da sopra vi Sto scazzando E si imbedebbe Buono Porca merda si è girato Maronna mia che è successo Qua si è rotto tutto Vabbè Uno però se ne è saltato Perché lui c'è un coso Un lecca lecca in mano Ah io ho Dildo Allora se mette Dildo No Non lo mette Wimpy Ma è troppo rischioso Mega calcio Vediamo un po' Ok buono Ciao Dildo 34 Fattibile Venemote No Rimanevamo così Ma dai Ma poi c'è Sembra Cioè Venemote schiacciata Non lo so Questa è un giornale Non si capisce Bah Ari mega calcio Oh Ancora Super mega calcio 1500 Si sale quasi al 46 Eh Io ma non ho letto La scala Eh Lui va affrontato Per forza Vabbè Sono figlio per sbaglio La vita non va meglio Cioè Questa non la sono Versa Questa non la sono Meno io Ciao un giocogliere Quigmeyer Un evergreen Di pokémon Iron Man Fango bomba Un ponte di palle No Ah È molto efficace Però l'ha avvelenato Già qualcosa Privazione Vai Boh Dritto per dritto Ma levato così Noia Riproviamo Mega calcio Il magico Mega calcio Poi ne rimane uno Comunque Vabbè Vai 9 e 24 Eh Pip Un'altra volta Prova colpo di Fango eh Guarda Quanto in quale va Vabbè Che se ne fiede La velocità Tanto attacco Prima è uguale Vabbè Comunque si riusa Perché Gli ha levato Più di metà vita E ora schianta Vai Ci si fa a salire 1.2 Ma dai Per un prezzettino Ma sì Mio padre è gay Mio madre è scema Ok Va bene Andiamo da Mario Attide Bella stradina Buono Ma c'era ancora a sinistra Che meno male non si è affrontato Mario Attide Sento i fossi sotto al letto Mi rimatte il cuore in petto Guardi i rospi nella vasca Mi rincuoro E perdi un'esca Non posso più mangiare Non riesco più Eh no Non riesco a respirare Non so più come fare Non ce la faccio più Tu puzzi Tu puzzi Maronna mia che puzza Ti spruzzo il dodorante Ma non ti può fare niente Sì vabbè Io ho la voce Quella che è E me la ricordo da Sprout Comunque Tu puzzi Dovebbe essere Una canzone Una delle top Fatte da Mario Attide Andatela a cerca su internet Su Youtube Va Mario Attide Andate su A mai dire Qualcosa Comunque Bidoof Carp Mamma mia Megapune Vediamo un po' Cazzo Il 45 Meno male si è ammazzato Alla prima E incredibilmente 9 e 15 Ma era il 45 Non ce l'ho fatto a caso Va troppo dislivello Comunque Dagli allenatori A Capopalestra C'è neanche Vattra Ma totale Ditto Carp Madonna Santa Colpo di fango Splash Inutile splash 46 Addirittura Sembrerebbe Poco più O preciso preciso Metà vita Quindi Ora potrebbe schiantare Fra l'altro Dio buono Ma perché Tra l'altro Si è attaccato Noi Perché Il gruppo di fango Gli ha diminuito La velocità Cioè Si è attaccato Prima Noi Ehm Boh Megapugno Ma che cazzo C'è il palestra Di solito Megacalcio Non me la sento Che ce ne rimasta una Magari Può essere utile Forse dopo Da Ora basta Ora basta Cosine Basta Pozioni Trasformazioni Eccoci Cazzo Lo lasciando Mi mossa Vai Oh Incredibilmente Li garba diro tutte le volte Non mi interessa Ormai la frassi Megapugno Per ora è ancora a fallere E come io sempre Sta a vedere ora Dopo se lo devo utilizzare Che è Digret Carp Ma tutti i carp Mamma mia Signore Che schifo Ehm Boh Fango bomba 50 Ragazzi Al 50 Ma avvelena tutto Boh Mi sta andando di lusso Anche se la va può Avvelena Sì Altre mosse inutili Sì Comunque Io faccio Una osina Me la rischio Cioè Me la rischio Ma le rimetto Merda Se Questi pokemon C'erano queste mosse Del kaiser No cazzo Mi sono stato curato Accidenti all'uno Io quasi quasi Dato che sono Di livello alto Provo A far Allenare Gli altri Ok infatti Fu stata Ma non mi allenavo Devo passare Ancora La splash E Morto Si Olè Se è 75 Una merda Vabbè Diviso in guerra Picarpicciu Quindi si mette Dildone Sperando che anche i Picarpicciu C'abbiamo a sede Il kaiser Come per l'art Sì Però ne ho beccato Se non sbaglio Comunque il berzo Ha fatto di chi era I draw di dip No 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 Lasciate Stare Questa So Cadete Andiamo Un po' Andrilla la Fossa Oh Magica forza Si Comunque dai Che pacchino del cazzo Sa di po' Sa di po' Lottasse C'hanno tutti i splash Questi lì Poi tutti i carp 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 C'hanno tutti cosa Trova faccia di magica Vabbè Anche Dido Sarà altrimenti Z Mordo E regola sale Anche Di bagno Manca pochino Yes 2-2-1 2-2-1 E ale E ci abbiamo Anche la quinta medaglia Dai Che ne manca An tre Ci do anche questa Anche se è tutto quello che ho MT-06 Vabbè la medaglia Non lo scriviamo mai Potevo venderla Per comprare il cibo A mio figlio Fernandello Ma hai vinto tu Maron Zaino Vediamo un po' Cos'è MT-06 Tossia Ci fa po' Ci rivediamo Alla zona safari Curia poco Ma si va lì Perché Come dissi Già nei precedenti episodi Si guarda Se c'è qualche bombetta Adesso Eccoci qua Andiamo Rientriamo Fra l'altro Qui se non sbaglio Doveremo trovare Un MN Bene La macchina nascosta Deve essere Surf Se non ho sbaglio Prima vorrei sapere Chi lo possa imparare Vabbè Ci vuole Però un Pokémon D'acqua All'aprezzone 500 Non so mai Almeno io non ho mai apito Che Che soldi sia Potrei catturare Tutti i Pokémon Del parco Venite la caccia Noo Eccoci qua Zona safari Andiamo nell'erba Nel frattempo Se mi guardo la strada Andiamo anche a cercare Come Cercare di arrivare Al casottino Che a regola Ci permette Poi di prendere La cosa La MN3 No Surf è 3 Si Si è surf Io Ma devo anche vedere In base a quello Mi rimane Non c'è un Pokémon Bene No scherzo Mi gira coglioni Cazzo Posso cercare qualcuno Vediamo un po' Chi c'è Che cazzo è Sudonuto No Fuga Non mi gare Non mi tire i sassi Per fanno male O si Trova ricaricata tale Buono Buono Fa sempre comodo Allora Cosa c'è scritto qui Ostello Vediamo un po' Cosa fa Quanti ne hai Sono distrutto E ho tanto logo Ti manderei a spaccare Mie Scappano tutti Porca troia Ho tirato un sasso Un po' Ma non c'è ne più Credo sia morto Nel dio Da quelli del porco Mi ricorda A tempi Mi si trovava Cioè Che era Abbastanza raro Exciter Poi se non sbaglio Cioè Cangascan Si trovava loro Buono Mi ricorda Che era un casino Prendere Perché Era già difficile Trovarli Quando trovavi Scappavano Spesso Rapide artiglie Qui c'è anche il tempo In vario Quindi Non vi era un Pokémon Ragazzi Non vi era un Pokémon All'Aciari Vediamo un po' Stewie Anche lui è Nevergreen No 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 Non mi interessa Che non è Del green Di Pokémon Mario Merda Era uno dei livelli Che c'era nel primo Se non sbaglio Andiamo giù Revitalizzante max Buono E' lì Il cazzottino Quello lì Che ci dà Lomino Cioè Lomino che c'è dentro Ci dà La cosa Da un'anni Fa vedere Che c'è dentro Non c'è un cazzo Non c'è un cazzo Veramente Andiamo su No Niente Bella merda Che cazzo Si arriva di là No Porca merda No Lo devo rifare No In realtà Proprio zero Solamente Così Oggetti Niente Pokémon E altro Come si arriva di là Ragazzi Non me lo ricordo Anzi Non mi riesce Ma di va C'è qualcosa No Vai Sprechiamo Tempo Così Porca Troia Vabbè Che poi Non è che va Veramente a tempo È come I repellenti Va A passi A regola Di va Nulla Vai Consumiamo Ancora Tempo Vai Un Pokémon Guardiamo Un Pokémon La scimmia Al 33 Proviamo Tra qualche Assassino Scimmia Infuriato Tirò Un altro Ma non esca Tornando a caso E proviamo A catturarlo Ball Safari Ball Uno Due Tre Bueno Presa la scimmia Alla prima Non so Di che tipo Sia Però Vediamo La lenta Di descrizione No Come era la scimmia Niente Soprannome Prima era Andato Rivano Me lo ricordo C'è più No Sì E c'era Cos'era Rapida Tartigli Quindi ora Devo Andar A su No Oh madonna Oh madonna Oh madonna Non mi uscio Non mi usardo più Prima Andar Giù No Io Non me lo ricordo No C'è crash Crash Fake crash Ve lo voglio Sasso Ball Così Uno Due Tre Io Oh madonna C'ero quasi È un furiato Non mi interessa Non esca Vai Mangia Cazzo È scappato Giù Ma se non sbaglio Giù No Non c'è Andato Prima Dai Che palle Che palle Che palle Che palle Ma dove dove andavo Allora Scatari Niente E qui È dove ero Prima Di va Cosa c'è Un'altra zona Per catture Basta Almeno Giù Ci spondano Qui Ah che cazzo Meno che oggetto Nascosto No Solito C'è quelli invisibili In zone simile Ora riscatta il tempo Vieni E che palle Che palle Vieni Ormai Si fa finire il tempo Tanto io Non so cosa devo fare Ok Facciamo così ragazzi Come sarebbe La terza volta No È la terza volta Questa Ci troviamo A casottino Sperando che Possa trovarlo Questa terza volta Va bene Vai A dopo Allora Eccolo qua A casottino Siccome non so Il tempo Mi rimane Io La foca Volendo La prendo No Mi ce la prendo MT32 Vela Doppio team Ti va a vedere A scatto Il tempo No Meno male Ho sbagliato Sbagliato solamente Una volta La strada Però per il resto Non ce l'abbiamo fatta Ah finalmente Ero che rompimi il cazzo D'addio Solo Sanno No Eeeh Ero che rompimi il cazzo Solo Dio Solo Dio Sanno Quanto Vabbè Prendi questo Questi me ne possono andare a fare i cazzi miei Eccoci qua Buono 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 Guardiamo se per motivi x La pomperà qualcuno Tra l'altro mentre cerco surf Vedevo dirvi che per sbaglio ho catturato un execute La scatola dell'ova Lo Cioè non ce l'ho fatta in tempo a presa su fuga Ce l'ho sbagliato a presa su bolle E l'ho presa la prima Vabbè Non capace Bene Vabbè Bisognerà Prendere qualcuno In grado di poterla Allora Ormai facciamo finir tempo Non finisce più Intanto prendiamo anche questa Se ci siamo Denti d'oro Ora è uno scatola Ah Non male Sto per di bon Finisce più Ok Quindi ragazzi Niente Non ci resta che trovare un po' Pokémon D'acqua Via Comunque ragazzi Facciamo così Che volevo prendere un Pokémon d'acqua Ma forse l'ho saputo Andando troppo per le lunghe Ehm Beh 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 Niente Triviamo alle conclusioni Allora Come sempre Vi ringrazio in primis Per la visualizzazione E poi vi ricordo di mettere By Raffare Se voleste queste tre cose Ovvero mettete in bel Mi piace al video Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Così potrete rimanere aggiornati Subito che caricherò Soprattutto su questi qua Di questa serie qua Allora Sì Le conclusioni sono state un po' particolari Sono state affrettate E Niente Per cercare di essere il più corto possibile Beh ragazzi Detto questo è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.